parlare di comunità è facile e soprattutto in una in un periodo nel quale la parola e le parole non contano niente e quindi si potrebbe anche parlare trovare anche la formula giusta ma la comunità intanto è una realtà è una realtà che è fatta di relazioni c'è comunità laddove il rapporto e la relazione autentica laddove uno si guarda negli occhi e sa che che quegli occhi lì c'è dentro il cuore l'anima la simpatia e c'è anche la storia la tua storia e la storia di un altro e c'è comunità laddove uno non non è capace di stare da solo e laddove laddove si sa che in qualche maniera solo insieme si vive e lo stare insieme non si tratta soltanto di parlare di lavoro oppure parlare di divertimento oppure di politica lo stare insieme vuol dire di essere teneri quando è ora urlare quando è ora abbracciarsi quando è ora e vuol dire secondo me eccoci secondo me avere ancora il coraggio di sorridere perché una società credo che una società è comunità laddove si riesce ancora a sorridere insieme ciao